Allora, parliamo di gestione degli errori o delle eccezioni che dir si vogliono, poi vari linguaggi di programmazione usano terminologie leggermente diverse, ma il concetto è comune. Questa figura cosa ci suggerisce sulla destra? Ci suggerisce che adesso che stiamo facendo i programmi un pochino più lunghi, un pochino più articolati, avranno probabilmente una funzione main che chiama altre funzioni, che a loro volta chiamano altre funzioni, in certo punto vediamo che la funzione leggi file 2 chiama la open per aprire un file e questo file per qualche motivo non esiste, non c'è. Magari non c'è perché l'utente aveva inserito nella funzione chi è di nome file un valore sbagliato, il nome di un file non esistente, vabbè, può capitare. Il problema è che la open se cerca di aprire un file che non esiste dà un errore, un'eccezione e blocca il programma. File not found che abbiamo già visto diverse volte. Non è un errore grave di per sé, perché se il nome del file è sbagliato basterebbe chiedere all'utente di correggerlo. Ma la funzione leggi file 2 non sa da dove arriva quel nome del file. Probabilmente ci sarà passato come parametro e il programma main che dice ok chiediamo all'utente i nomi dei file e poi passiamo alle funzioni di lettura dei dati, questi nomi su cui devono lavorare. Quindi io ho un punto in cui scopro che c'è qualcosa che non va, la funzione leggi file 2, ma in quel punto non ho la possibilità di correggere il problema. La possibilità di correggere il problema ce l'avrebbe in main, che a questo punto può dire all'utente richiamiamo la funzione chiedi nome file dicendo all'utente guarda che questo nome non esiste chiede da meno un altro. Quindi il luogo in cui potrai correggere, gestire, non necessariamente correggere, gestire il problema è la funzione main. Il luogo in cui invece viene rilevato il problema, viene causato il problema, viene scoperto che c'è un problema è la funzione leggi file 2. Che lì si trova un errore e cosa posso fare? Mi hanno passato come stringa il nome di un file. Questo file non esiste, più che dire non posso fare niente. Poi magari qualcuno più intelligente di me, nel senso qualche funzione più ad alto livello di me è in grado di gestire questo problema. Allora questo è il meccanismo di base delle eccezioni. Separare il punto in cui si verifica un problema, che può essere ovunque, dal punto in cui ho l'informazione per poterlo eventualmente correggere o quantomeno gestire in modo ordinato. Tipo magari stampare un messaggio che non sia un messaggio di errore del compilatore, ma un messaggio che dica all'utente questa cosa non è possibile o cose del genere. Quindi in qualche modo noi vogliamo far sì che quando il programma main chiamo la funzione leggi dati, che a volte chiamerà la funzione leggi file, che a sua volta chiamerà open e si verificherà un errore, il programma main possa intervenire e non gli muoia il programma sotto il naso. Quindi il programma main dovrebbe dire, senti io chiamo la funzione leggi dati, oh ma se per caso si verifica un os error, dimmelo, che io so cosa fare. Quindi io devo chiamare una funzione dicendo io so che questa funzione potrebbe causare dei problemi, lei ho le funzioni da essa chiamate, ma io le so gestire questi problemi, se si verificano. Se non si verificano facciamo finta di niente. Lo potrei fare forse in altri modi, no? Ad esempio poter restituire un valore, un an, un valore sentinella da questa funzione che dice qualcosa è andato storto e poi questo valore deve essere ripercorso sopra, poi deve essere restituito sopra ancora. Si può gestire a mano sta roba qua, ma diventiamo scemi. Nei linguaggi che non hanno la gestione delle eccezioni infatti si diventa scemi. Invece qua lo facciamo in modo dichiarativo. Noi diciamo, guarda, allora cerchiamo di capire, ci sono dei punti in cui possono verificarsi degli errori e le funzioni normalmente di libreria le verificano questi errori e li segnalano. Se faccio divisione per zero, l'operatore divisione mi genera division by zero. Se accedo a un indice che non esiste mi dice che l'indice out of range, eccetera. Cioè ogni operazione che faccio è in grado da sola di rilevare se si verifica un errore. Quando lo rileva di fatto lancia un'eccezione, lancia un segnale d'allarme. Ho trovato un errore. Questa eccezione, questo errore, può essere catturato e gestito da qualunque funzione o blocco di codice che comprenda il punto, quindi che sia esterno, che comprenda il suo interno, il punto in cui si è verificato l'errore. E quindi posso capire meglio che errore sia verificato, eventualmente correggerlo, eventualmente riprovare, oppure magari un errore che non è recuperabile, tipo, devo salvare un file, il disco è pieno, è pieno, non è che posso cancellare qualcosa a caso perché il disco è pieno. Ti dirò, attenzione, non posso salvare il dato perché il disco è pieno e poi sarà poi l'utente che in ultima analisi va a correggere a capire, ma molti errori sono prevedibili, sono gestibili. Allora, nella maggior parte dei casi siamo noi a dover gestire problemi che saltano fuori da operazioni aritmetiche o operazioni di input-output, lettura, scrittura file, eccetera, eccetera. Quindi quello che ci importa di più è imparare a gestire questi errori. Se invece andiamo a costruire delle funzioni che poi useremo, funzioni complicate o che esauranno altri, potremmo anche magari rilevare degli errori e comunicarli, cosa che fanno già le funzioni di libreria, ma magari noi vogliamo comunicare degli errori in più o di tipo particolare. Che ne so, se facciamo una funzione che calcola la diagonale di una matrice, se questa matrice non è quadrata, non può farlo quel lavoro lì. Allora quella funzione dovrebbe dire alto là, non posso farlo, in qualche modo. Quindi è un tipo di errore matrice non quadrata che non esiste in Python, ce la possiamo inventare noi. Allora questa parte qua di rilevamento di errori custom, personalizzati, ci interessa meno. In questa parte c'è, non è difficile, si basa su un'istruzione raise che segnala l'errore. Aiuto, c'è un problema. E poi gli passo il tipo di errore. Ma invece quello che ci interessa di più è la gestione di errori che si possono verificare nell'usare le funzioni normali, normalmente esistenti. Allora, questa istruzione, questo, diciamo così, meccanismo di gestione si basa su un costrutto try, accept, che a parole lo leggerei così. Prova a fare sta cosa. Se poi qualcosa, quindi try una serie di istruzioni, se poi qualcosa va male, ti dico cosa fare. Quindi è una sorta di if a scommessa. Fai delle istruzioni, poi può darsi che vada tutto bene, può darsi che vada qualcosa male, allora in automatico vai a fare l'istruzione che ti dico io. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi, ma già li conosciamo di tipi di eccezioni o errori. Adesso, come dico, la nomenclatura è un po' variabile, nel senso che a livello di Python vengono tutti chiamati error. Normalmente si chiamano eccezioni perché non è detto che siano, nel parlare in italiano, non è detto che siano veri errori. È una cosa che succede. Chiaro che dividere per zero è un errore, ma che il file non esista, è un errore per la open, poveretta, ma in generale è legale che un file non esista. Ok, adesso qui andiamo al succo. Come funziona questa istruzione? Try, due punti, quindi apre un blocco, con una serie di istruzioni, una dopo l'altra. Quindi un blocco qualunque. Cosa succede? Che Python, mentre esegue queste istruzioni qua nel blocco try, tiene d'occhio se si verificano delle eccezioni in queste istruzioni o nelle funzioni eventualmente da essere chiamate. Se si verificano delle eccezioni, prima di bloccare davvero il programma, va a vedere la clausola accept. Prova a fare questo. A meno che capiti questo errore, allora devi fare quest'altro. Allora, nel caso in cui in un blocco try trovi degli errori in esecuzione e trovi una clausola accept, che deve seguire direttamente il blocco try, che dice che io sono capace a gestire questo errore. Il parametro di accept è il tipo di errore che so gestire. Ci sono tanti errori diversi, magari io so gestire il find not found, ma non so gestire il zero division error perché non ci ho pensato che potesse capitare. Quindi non è che gestisco qualunque errore. Gli errori che sono in grado di prevedere, allora ti dico guarda, io sono capace a gestire questo errore. Allora ti dico che sono capace a gestirlo e ti dico come. Quindi ad esempio questo qua ha detto proviamo a aprire un file, apre il file, lo leggo, lo elaboro, faccio quello che devo fare con un file, ma tutto questo lo faccio sotto un blocco try. Quindi riconosco che lì dentro possono capitare dei problemi imprevisti e imprevisti in parte perché io posso prevedere che alcuni di questi problemi sollevino un'eccezione che si chiama IO error, adesso poi vediamo quali sono le eccezioni principali, dei varie tipologie. Potrei scrivere qua find not found error, che è l'errore che magari, però potrebbe anche essere un'altra causa di errore legato all'input output, a IO sta per input output. Allora cosa succede? Che se durante l'esecuzione di una qualunque di queste istruzioni o di una delle funzioni da essere chiamate, quindi del process chiamo delle altre funzioni che non so cosa faranno, si verifica un errore che è riconducibile a un errore di input output, allora chiaramente tutto questo blocco qua viene interrotto. Non posso andare avanti se ho una division by zero. Viene interrotto dovunque sia e il controllo riprende da qua e vengono eseguite queste istruzioni qua. Questa è una istruzione molto triste che dice non posso farci niente, vabbè, però a volte ci posso fare qualcosa. Posso avere più blocchi except perché posso avere varie strategie di recovery in funzione del tipo di errore. È già una cosa sofisticata. Qui ad esempio fa vedere un blocco di codice che apre un file, legge una riga e estrae un valore intero dalla prima riga che ha letto. Allora qua vediamo che abbiamo colorato in due modi diversi due funzioni, la open può generare un file not found e la int può generare un value error. Lo sappiamo bene. Allora vuol dire che questo blocco di istruzioni può morire per due modi diversi. O perché c'è un os error e allora a questo punto ho la gestione che dice guarda file not found. Oppure perché la linea che ho letto non è effettivamente un valore numerico e quindi la funzione int genera value error e allora dirò, farò altre cose, darò un messaggio, perlomeno un messaggio di errore diverso che dice guarda il valore è sbagliato e poi ti dico perché. Quindi se tutto va bene, se non si vede nessuna eccezione, tutti questi blocchi qua except vengono totalmente ignorati, non vengono eseguiti. Vengono eseguiti solo se nell'esecuzione delle istruzioni del blocco try invece si verifica un errore. Allora, dove è la figura che ero sicuro di avere? Perché non ce l'ho? Avevo fatto una figurina che c'era tutte le eccezioni belle e belline una vicino all'altra. Vabbè non ce l'ho più, non ce l'ho mai avuta, l'ho sognata. No, non c'è, come l'ho detto, scusate, la vado a trovare e ve la metto poi sul gruppo, con l'elenco delle eccezioni principali. Fate attenzione a una cosa che nel libro di testo parla di IO error, Input Output Error. Questa è una figura presa dal libro di testo e noi in realtà parliamo di OS error perché nel frattempo Python è cambiato e IO error funziona ancora ma il modo corretto di usare, di tenere questa decisione è OS, OS è sistema operativo, operating system. Ok? Quindi alcuni esercizi, ad esempio il libro usano IO error però diciamo così Python ci suggerisce di usare OS error che è il nome più furbo secondo loro per questo tipo di errore. Allora, cosa possiamo usare queste cose? Ad esempio possiamo usare per risolvere un problema appunto che ci portiamo dietro da sempre, cioè leggere un numero intero. Noi se dobbiamo leggere, sembra che stiamo tornando alla prima settimana, voglio un programma che legga un numero intero. Quindi cosa faccio? Faccio una funzione, leggi numero e cosa faccio? cosa fa questa funzione? Lo metto in una funzione perché adesso ormai sappiamo le funzioni, cosa farà questa funzione? S uguale a una stringa input numero, due punti e poi return, facciamo n uguale int di s, return n, cosa fai? Return n. Questo è quello che sapevamo fare. Sapendo che poi faccio un numain come faccio x uguale leggi numero, print x. Programma sofisticatissimo. legge un numero, scrivo 4, stampa 4, che bello. Il problema è che se leggo un numero, l'utente scrive e, anziché dire non va bene perché non è un numero, mi stampa questa cosa qua che qualunque essere umano medio dice con un computer impazzito. e allora cosa possiamo fare? Noi abbiamo cercato a volte di fare dei controlli su s prima di chiamare la funzione int. Ricordate che a un certo punto facciamo if s.isnumeric per vedere se aveva tutte cifre numeriche, che però non andava bene, perché se il numero fosse meno 3, is numeric mi dice ciccia, mentre invece meno 3 va benissimo. Se il numero fosse 3 spazio va benissimo. Int logisticisce benissimo uno spazio davanti e dentro o dopo il numero, non in mezzo, chiaro. quindi non siamo mai riusciti a trovare una soluzione soddisfacente che dicesse guarda io ti so dire se questo numero è un buon numero intero e sui numeri interi tutto sommato è facile, posso avere degli spazi, forse un meno, forse un più davanti, poi delle cifre numeriche e forse degli spazi dopo, basta, non posso avere altro. Però se pensiamo già ai numeri reali posso avere segno più o meno, degli spazi di troppo, parte intera, forse il punto decimale con una parte decimale successiva, però attenzione che se c'è il punto decimale deve esserci almeno o la parte intera o la parte decimale, o tutte e due, non può esserci un punto da solo. E poi magari c'è la parte esponenziale, le minuscole, le maiuscole, l'esponente col più, col meno e poi deve essere un numero come esponente. Insomma, se dovessimo scrivere una parte del programma che verifica se una data o una stringa questa contiene effettivamente un numero reale, sarebbe più lungo probabilmente il controllo del resto del programma. Quando una funzione che sa fare questo, già ce l'abbiamo, si chiama float. Una funzione che sa leggere un numero intero e dirti se è scritto correttamente, già ce l'abbiamo, si chiama int. Solo che per dirti che il numero, la stringa, non contiene bene un numero intero, te lo dice in un modo strano, generando un'eccezione. Adesso però sappiamo gestire questa eccezione. Noi possiamo dire, ok, io so che la input non fallisce, la int potrebbe fallire. Allora, try. Senti, io ti faccio int. Dopodiché può darsi che tu mi generi un value error. Allora posso dire l'utente, decentemente, attenzione, S non è un numero. Valido. Occhio, è che qua dentro S lo posso usare sì, perché ce l'avevo già prima. Qua dentro N lo posso usare no, perché se arrivo nel blocco except N non è stato calcolato. Mi sono bloccato, sono morto dentro la int. Allora, in questo caso non è finito il programma, chiaramente. Però possiamo cominciare a provarlo. Se io metto un numero 5, funziona tutto come prima. Cosa vuol dire funziona tutto come prima? Vuol dire che la try da sola non fa nulla, l'accept non viene manco guardato se non si verifica nessuna eccezione e quindi è esattamente il stesso programma di prima. Se però invece ci metto una lettera, prima ci avevamo messo una E e quindi sono affezionato, allora, cosa succede qua? Andiamo a fare un po' più di spazio all'output. Leggi numero. Numero E, attenzione, E non è un numero valido. Perfetto. Cioè vuol dire che mi sono accorto che questo non era un numero valido e sono andato nel blocco except e ho stampato questo messaggio. Poi subito dopo è capitato un altro errore a cui non pensavo, cioè in realtà sì ma, e mi dice qual è l'errore. Questo qua. Can not accept global variable n where it's not associated with a value? Che è un errore un po' strano che dice io so che c'è una variabile locale n ma non gli hai mai dato nessun valore, tradotto in italiano. Perché? Certo, perché la riga 7 viene fatta comunque. Questo blocco except fa quel che deve fare e poi il programma mica muore, continua. E io vado a fare un return di n e l'n non c'è. Allora, cosa posso fare? Beh, posso dire, guarda, se il numero non è valido magari ritenzo 0, brutto, brutto, però così funzionerebbe. Se inserisci un numero ti do il numero, se inserisci una schifezza ti do 0, così impari. Allora, in questo caso, facendo un return prima non arrivo il return di n e quindi non ho il problema che n non sia definito. Quindi se inserisco 4 va bene. Se inserisco x mi dice, attenzione, x non è un numero valido e poi il programma arriva a 0. Non è il comportamento ideale, adesso lo miglioriamo ancora. Ma quantomeno il programma non si blocca, in caso di errore. Oppure posso, se non voglio fare return potrei interrompere il programma, exit e lui, in caso di errore, stampa, attenzione, non è un numero valido e il programma termina, è un po' brutto, un po' tipatico, ma non mi stampa messaggi di errore strani, che mi avrebbe stampato error dalla riga, chi lo sa. Oppure, meglio ancora, cerchiamo di ripetere la lettura del dato fin tanto che questo dato non è posto. Quindi vuol dire che tutto questo giochino qua, togliamo questi return e questi exit che non ci piacciono, lo mettiamo dentro un ciclo che ripetiamo finché il numero non è ok. È ok, è qualche cosa che parte falso e diventa vero, qui, dopo che ho letto il numero. Quindi, parto dicendo non è ok, cioè non ho un numero valido in mano. Entro in ciclo while, chiaramente, perché not false è vero, faccio int di s. Se il numero, se s è un numero valido, viene memorizzato dentro n, la variabile ok diventa vera. Poi Excel viene ignorato perché non c'è stato nessun errore, torno a fare il while, ok adesso è vera, not ok è falso e quindi esco dal while e vado a far return. se invece si vede un errore cosa capita? Entro qua, int mi genera l'errore e salta alla riga dell'accept e quindi la riga 7 ok è uguale true non viene eseguita. non venendo eseguita ok è uguale true, stampa questa print e quando torna su a fare il while, guardiamo che il while comprende tutto, tutto il blocco, ok è ancora falso e quindi ci riprova una seconda volta. Oh che brutto, ci riprova una seconda volta senza richiedere il numero, scusatemi, devo richiederlo. se no ci riprova all'infinito, eh guarda, vediamolo subito, bacchetto stupido, 4 va bene, x mi stampa all'infinito, questo mi incolpa tantissimo, mi stampa pagine, pagine, pagine di x, non è un numero valido, dirla io come sempre, perché ho stampato questo, poi sono tornato su e la prossima istruzione che faccio è n uguale int di s, ma s è sempre la stessa, dopo che s è un numero, lo dico che non è un numero valido, per favore chiedimelo di nuovo, quindi la posso fare qua. tampo ho messo in errore, provo a rileggere il dato e poi tornando su col while lo riproverò a convertirlo in intero, quindi qua nell'except ho le istruzioni di recovery, di recupero, cerco di recuperarlo, lo dico all'utente, vi chiediamo il dato e riproviamoci. Allora, questo dovrebbe funzionare meglio, ovviamente sempre se è 4 passa liscio, se invece è x, x non è un numero valido, allora ti riprovo, con la i non va bene, con 7 invece dovrei essere contento. Quindi questa è un po' la tattica in cui io quando faccio questa istruzione, la faccio senza sapere se andrà a buon fine o no, cioè se guardate non ho fatto nessun controllo su s, non ho detto s lungo, corto, la stringa vuota, contiene delle lettere, no, ci provo. Se va male lo correggo, ma solo se va male. E qui sono sicuro appunto che il controllo che fa int è proprio quello giusto. Possono capitare due cose, o int dà errore, allora lo gestisco, o int non dà errore, allora vuol dire che il numero era giusto e va a finire dentro n. Non ci sono casi in cui c'è una condizione in cui non avevo pensato, eccetera, perché è la funzione stessa che genera l'errore, che fa il controllo. Quindi questo schema qua è uno schema che può funzionare tutte le volte in cui ripetere un'operazione può correggere l'errore. Tipicamente sull'input di un dato, se il dato non è corretto e viene letto dall'utente, posso chiedere all'utente, riprovaci. La funzione leggi numero è una funzione che promette, garantisce, che uscirà sempre un numero intero. Ora non esce niente, perché l'utente è testardo, ma se esce con la funzione esce con un numero intero come risultato. Dimmi. Quindi qua volevi mettere n uguale legginumero? Sì, però ovviamente poi senza nwise, senza... Ho capito. Sì, allora, sì, in teore si poteva fare nel senso che avresti creato una funzione ricorsiva. Una funzione che nel caso di errore richiama la sua funzione stessa, che nel caso di errore richiama la funzione stessa. Nel caso invece in cui vada bene, c'è una catena di return che torna indietro, col valore... Sì, con l'n, poi... Sì, funzionava. È una complicazione inutile trasformare in ricorsiva, è una cosa che potrebbe essere semplicemente iterativa, anche perché il numero di chiamate ricorsive è limitato, mentre il numero di iterazioni possono essere a piacere. Però sì, una funzione può richiamare se stessa. Come richiama una funzione diversa, richiama tranquillamente se stessa. E farà la stessa logica. Ok, quindi... Altri tipi di errore, tipo leggo un file e la prima riga è sbagliata, non lo gestisco così. Perché quando leggo la prima riga di un file e quella è sbagliata, non è che se la rileggo subito dopo, questa qua si è messa a posto, no? Però magari leggo un file, non c'è il dato che mi aspetto, magari posso decidere, il file non è corretto, exit, oppure magari mi aspetto che ci siano delle righe che non sono nel formato giusto e quindi salto la riga successiva. Quindi cosa faccio nell'except? Riprovo, ignoro, termino il programma. Alla fine le tre strategie più semplici sono queste. Il programma che abbiamo fatto l'altro giorno sulla popolazione ricordate che a un certo punto avevamo questa qua, no? C'era una divisione per zero che abbiamo evitato testandolo prima. Ecco, questa stessa cosa si potrebbe fare anche qui con la gestione di sezione. io faccio l'operazione se va male quindi avrei questa funzione qua fatemela duplicare e così la modifichiamo una copia calcolo la densità 2 anziché questa if anziché controllare prima io faccio l'operazione sotto condizione sotto try e se va bene faccio la divisione e appendo il dato altrimenti altrimenti cosa? altrimenti division by division by zero o zero division error andiamo a vedere penso sia zero division error perché tutte le sezioni si chiamano error zero division error allora ci appendo questo valore e questa funziona esattamente come l'altra il caso normale faccio la divisione faccio append dd ignoro il blocco except e continuo il ciclo for invece se si verifica una zero division error e si può verificare ovviamente solo la riga 35 allora automaticamente la riga 36 non verrà eseguita ma al posto del resto di questo codice quindi d non viene assegnato a nessun valore ma invece eseguiamo questo codice che c'è sotto quindi un pochino ribalta un po' il ragionamento anziché dire ragioniamo prima facciamo attenzione controlliamo tutti i dati per essere sicuri che poi l'operazione che sto per fare abbia successo è un modo di ragionare a patto che sia facile identificare quali sono le possibili cause di insuccesso nel caso della divisione per zero lo posso sapere prima se darà problemi nel caso di una open di un file non lo posso sapere prima se il file esiste finché non faccio la open l'altro modo di ragionare invece è fare l'operazione tenendo traccia di quali sono i problemi che si possono verificare c'è la divisione divisione per zero un indice index out of range un aperto di un file os error eccetera eccetera e allora nel caso in cui si verifichi vado ad aggiungere le clausole except per dire che cosa fare questo funziona in modo locale quindi se vogliamo non vediamo troppa differenza con queste due funzioni non cambia quasi nulla anzi devo dire forse mi piace di più la prima su questa non ho molte alternative nel senso che conviene mettere in piedi questo meccanico che poi alla fine questo meccanismo è semplicemente try int n int di s perché sapere non è impossibile dato s sapere se è corretto ma il modo più comodo e veloce di sapere se s è un intero correttamente formattato è chiamare la funzione int è il modo più veloce più semplice più accurato e la funzione int se vado a leggere non mi dice ti restituisci l'intero oppure ti restituisci 33 se per caso non fosse un intero ti restituisci un'eccezione solleva un'eccezione c'è scritto la documentazione erase an error allora lo gestiamo così nel caso dell'apertura di un file come c'era sulle slide invece è il caso in cui sono obbligato quindi nel primo caso era indifferente posso gestire l'errore una volta che si è verificato sapendo che tipo di errore può verificarsi oppure prevenirlo nel secondo caso in questo caso anche posso gestirlo dopo oppure prevenirlo ma prevenirlo è complicato è un po' come se dicessi il dominio della funzione int è un dominio incasinato perché è quello che stiamo facendo questa è una funzione che ha come argomento una stringa anche lì possiamo definire un dominio che è il fatto di tutte le stringhe possibili che sono vali di numeri interi e quel dominio lì non è facile da identificare la funzione int lo fa in modo più semplice quindi potrei prevenirlo ma scelgo di non prevenirlo correggerlo a posteriori perché mi è più comodo l'altro caso che è quello dell'apertura di un file invece è il caso in cui proprio non lo posso neanche prevenire non lo posso prevedere ok e quindi sono obbligato a usare questo tipo di meccanismi allora se andiamo a prendere ad esempio il nostro esercizio che abbiamo appena finito sulla popolazione non sulla popolazione quello su dove era sul sugli scritti e dovremmo sempre ricordarci che quando apriamo un file o scriviamo un file quindi questa open qui è potenzialmente non dico pericolosa non esplode niente però potrebbe generare degli errori allora in questo caso è opportuno mettere questo open sotto un try except os error questo try lo posso mettere in diversi punti cioè potrei scriverlo qua e dopo di che mi chiedo qui che sono dentro una funzione se mi hanno dato il nome del file sbagliato posso dirti ma hai dato il nome del file sbagliato ma a chi lo dico all'utente no? quindi non saprei neanche come correggere questo errore qui posso per carità posso sempre print non me ne fai l'errato exit finisce lì ma se voglio cercare in qualche modo di recuperarlo di gestire questo errore senti ma non mi fai me l'hai dato tu non è che io posso inventarmi quale sarebbe stato quello giusto quando me l'hai dato uno sbagliato quindi la riga 38 qui è la riga in cui si rivela l'errore si rileva l'errore rileva si accorge si accorge dell'errore ma non è il punto più furbo in cui lo si può gestire la gestione dell'errore probabilmente si può fare in modo migliore all'interno del programma main allora vuol dire che questo try except è certo che lo tengo ma non lo metto qui lo metto qui sarebbe abbastanza inutile andrebbe bene solo se l'unica azione che decidessi di fare fosse interrompere il programma allora quello va bene lo posso mettere ovunque l'exit lo posso scrivere in qualunque punto del programma messaggio errore esci lo posso fare qua lo potrò fare nel main eccetera ma invece la legge studenti so che contiene delle operazioni che possono generare degli errori di input-output e allora la chiamata leggi studenti viene protetta except os error sempre e allora qui devo decidere che cosa fare quindi qua è un pochino più articolata ma anche un pochino più potente la situazione perché io ho in un punto più di alto livello in cui posso capire cosa devo fare una gestione di un'eccezione che invece si verifica in una funzione annidata che viene chiamata da qualche parte sono in due luoghi diversi questa cosa qua con un if non potrei mai farla perché l'if deve essere nel suo blocco invece in qualche modo un'eccezione teletrasporta un'informazione dal profondo di una funzione fino a un programma esterno che ha chiamato una funzione che ne ha chiamato un'altra che ne ha chiamato un'altra che hanno causato l'errore al chiamante di tutto questo c'è chi ha la tra in mano arriva l'informazione e guarda che c'è stato questo errore mo' sono fatti i tuoi e qui cosa potrei fare? beh io so che il nome di file è questo magari boh non è giusto posso riprovarci oppure magari ho vari nomi di file so che uno di questi è giusto devo vedere le strategie la strategia più semplice è chiaramente sempre quella di dire interrompiamo il programma di sicuro questo programma non può andare avanti dalla riga 25 in avanti perché la variabile di studenti se ci si evitano questa eccezione la variabile di studenti non è definita quindi non posso far nulla quindi o interrompo il programma oppure torno indietro e lo ripeto col giochino di prima while not ok fino a quando non trovo il nome del file giusto quindi quello che potrei dire è dire guarda questo nome del file è sbagliato inseriscimilo in uno tu perché magari ce l'hai più giusto oppure dimmi se vuoi abbandonare la cosa insomma gestire in qualche modo qui non avendo un testo che ci dice cosa fare la cosa più semplice potrebbe essere quella di semplicemente dire se non sbaglio exit prende anche no scusate os.exit niente ma ve lo ricordavo che ci sono due funzioni che si chiamano entrambe exit una accetta anche come parametro una stringa che sia il messaggio di morte che il programma lascia però non farò stesso facciamo una print normale non esiste oh non si può aprire e qua interrompo il programma potevo farlo già sotto ma qua però potrei sapere se posso recuperarlo oppure no in questo caso il file esiste ma se io avessi sbagliato il nome del file lui mi direbbe che il file adesso magari devo stampare anche qua dovrei stampare il nome del file per mettere un messaggio comprensibile va bene interrompo il programma mentre invece la stessa cosa la stessa cosa la posso fare la posso fare anche sulla estrar i cds in teoria non dovrebbe dare errore o meglio estrar i cds potrebbe dare un errore immaginiamo che io anziché 6 avesse scritto 66 qua sopra lo eseguo vabbè scusa devo rimettere a posto il nome del file lo eseguo e mi da un list index out of range vabbè qua allora questo vuol dire mi domando che è un errore e che non posso prevedere in anticipo ma il fatto che la colonna 66 non esiste lo devo sapere prima quindi non vado con le eccezioni a gestire i miei errori di programmazione vado a gestire degli errori di elaborazione dei dati quindi lettura o elaborazione dei dati che so che possono verificarsi per quello che è brutto chiamare gli errori questo è un errore un errore di programmazione negli altri casi è un'anomalia un'eccezione un caso particolare che si può verificare prevedo che si possa verificare e prevedo anche come gestirlo nel caso in cui si verifichi un errore di programmazione per definizione non lo prevedo perché se lo prevedo non lo faccio lo evito lo debuggo lo correggo perché se no avrei tutti i programmi con un unico try dicendo chissà se funziona perché magari è zeppo di errori di programmazione no, non è così quindi try except non serve per catturare errori dovuti all'algoritmo anzi è bene è fondamentale che se io sbaglio l'algoritmo esco con un indice faccio una divisione per zero o altro che il programma mi si blocchi mentre lo sto testando perché mi fa vedere che lì quell'operazione in cui io andavo tranquillo in realtà non è tranquilla è sbagliata e poi vado a capire perché ok quindi attenzione al tipo di errori che andiamo a controllare sono i tipi di errori dovuti all'elaborazione o la lettura o la scrittura l'input output dei dati che derivano dalla natura stessa dei dati il programma sarebbe corretto ma lì c'è uno zero dove non dove esserci sarebbe corretto ma quel file lì manca era imprevedibile no totalmente imprevedibile no poteva succedere ma non so a priori se succede o no l'elenco dei studenti è vuoto cosa succede se l'elenco dei studenti è vuoto è legittimo è possibile il programma funziona bene possiamo andare a vederlo quella è una casistica che si può verificare e magari la trattate in modo eccezionale cioè con un'eccezione genera un'eccezione da qualche parte oppure vabbè in questo caso se il file dei studenti è vuoto io per carità quando ho studenti vado a vedere se la sua lunghezza è diversa da zero lo vado anche a controllare non stiamo dimenticandoci che esistono le if però è un'informazione che posso avere solo dopo che ho letto il file è la stessa cosa quando scrivo i file stessi quindi abbiamo detto in questo caso se il file d'ingresso non esiste quando è finita la x che mi manda via se il file d'ingresso non esiste interrompo il programma perché altro non posso fare se il nome del file fosse stato inserito dall'utente potrei chiedere all'utente di correggerlo ma in questo caso è cablato nel programma non posso farci nulla estrai cds deve funzionare in assenza di eccezioni non deve mai generare eccezioni perché se no ho un errore nel mio algoritmo l'eccezione che genera è fatto un errore nella definizione di una costante il file la funzione scrivi studenti anche essa fa delle operazioni di apertura file scrittura nel file chiusura file eccetera che possono dare errori dopodiché se io non riesco a scrivere un file potrei passare a quello successivo è meno grave se non posso leggere il file non posso fare nulla e quindi interrompo il programma se non posso scrivere un file magari è un problema con quel file lì tipicamente magari qualcun altro ha già lo stesso file aperto succede magari quando un file è aperto in un programma c'è che la più di un altro dice non posso aprirlo perché è bloccato nel caso dei file di test non succede e allora non riesce a scriverci dentro perché c'è già un altro programma che l'ha aperto in scrittura e quindi non possono esserci due scritture contemporanee però magari il file dopo sì oppure in quella cartella lì c'è già un file che si chiama con quel nome protetto in scrittura quando tu crei un file per la proprietà dei file c'è anche la possibilità nel sistema nella finestra di di dirgli che ne so qual è la proprietà dei file dove sono le proprietà dei file dirgli che il file ridoni ad esempio quindi se tu imposti come ridoni un file e poi cerchi da python di scrivere dentro quel file ovviamente la open fallisce ma magari il file successivo no quindi una strategia per gestire gli errori di apertura del file nella funzione di scrittura degli studenti scrivi studenti è quella semplicemente di passare oltre con questo non ci sono riuscito col prossimo magari ci riesco e quindi potrei fare un try queste istruzioni sono il blocco del try except posso dire print errore nella creazione del file relativo al cds questa ci metto come fstring except che devo sempre mettere il tipo di errore e basta non ho fatto niente stampo messaggio di errore e passa oltre nel senso che è dentro un ciclo for passerà al cds successivo ovviamente non ci provo neanche a stampare il numero di studenti che ci sono nel corso perché ora ho calcolato parzialmente o non ho calcolato oppure vale zero quindi quella c lì non posso usare quindi nel blocco except conviene non usare mai nessuna variabile che sia calcolata all'interno del blocco try perché non posso sapere se è arrivato fino a quel punto da calcolarlo oppure no poi come strategia all'interno del corso la correzione la gestione degli errori tipicamente se fatta in modo paranoico porta via una quantità di tempo e di codice esagerato nel senso che alla fine magari avete un programma di 30 righe e poi altre 200 righe solo per gestire tutti i casi particolari eccetera allora proprio per non distrarvi troppo su questa parte qua nella maggior parte degli esami quello che scriviamo è qualcosa del tipo si assuma si dia per scontato che i file siano in formato corretto perché penso anche qua di nuovo c'è un altro caso sempre in questo esercizio in cui leggevo la matricola e se al certo punto il 94 studente si chiede una matricola numerica avesse una matricola con una z dentro si blocca tutto qua ma in questo caso è un problema nel formato del file quindi andrebbe gestito sì se questo fosse un programma vero che andassimo a vendere a dei clienti deve funzionare sempre al massimo mi dice ah il file è rovinato ma me lo dice magari ignora quello studente va a quello successivo eccetera quindi quasi ogni riga alla fine potrebbe nascondere delle trappole programma serio dovrebbe proteggersi da tutte queste trappole qua noi però nel corso qua cerchiamo di concentrarci più sulla parte dell'algoritmo delle strutture dati e quindi non vi spingiamo a essere paranoici nel confronto di controllare gli errori l'input e l'output eccetera ok quindi diamo quasi sempre per scontato che non ci siano stranezze o anomalie nei dati di input chiaramente dobbiamo continuare a controllare gli errori che possono saltare fuori dall'algoritmo dai dati anomali tipo quello di San Marino ci stava tranquillamente San Marino del Vaticano che va per area zero non era un dato sbagliato quindi andava gestito non si gestiva il caso in cui uno stato avesse area Q una lettera anziché un numero quello no perché sapevamo che il formato del file era corretto però alcuni dati possono essere non calcolabili non calcolabili nel modo normale quindi bisognava capire il modo in cui gestire ok quindi su questo troverete in questa settimana che ci sono forse un paio di esercizi che vi chiedono di riflettere su questo volevo trovarvi perché ero convinto che ci fosse ero convinto di averla messa nella slide ma alla mia età non è più legittimo essere convinti di nulla python exception no ma c'era ricordavo che c'era un grafico di questo genere ecco qua eccole qua questo è non so quanto aggiornato sia perché ho trovato al volo con google ma i tipi di errori che potete catturare e sono generati dalle funzioni della libreria standard poi noi non andiamo a vedere come fare a generare eccezioni di tipo nostro ma si può fare e vedete che sono messe ad albero c'è un'eccezione madre di tutte anzi in realtà queste tre sono eccezioni interne all'interprete python quelle che partono da exception invece sono eccezioni che sono relativa all'esecuzione del nostro programma e sono ad albero per cui se io vado a catturare un arithmetic error questo catturerà sia floating point error che overflow error che zero division error quindi se ho bisogno di gestirli tutti e tre perché non so esattamente quale capiterà posso andare a gestire e fare un except di arithmetic error dell'ecezione più a monte ad esempio os error che è l'eccezione che abbiamo catturato nel momento in cui facevamo l'apertura o la scrittura dei file va a comprendere tutte queste cose qua che possono capitare quindi il file non ho trovato il file esiste già sto cercando invece di scrivere un file che è protetto in scrittura esiste già il file esiste già una cartella col nome del file che sto cercando di creare oppure sto creando una directory ma questa qui non è sto aprendo un file in una cartella ma il nome che ho dato non è il nome di una cartella ma è il nome di un file non ho i permessi per poter fare l'operazione sto lavorando su un disco di rete e questo è troppo lento cioè le cause di errori di input output sono le più diverse allora dipende un po' se il nostro programma deve differenziare il comportamento in funzione della causa si va a catturare questa eccezione quest'altra eccetera e le gestisce separatamente se invece vogliamo dire beh se va qualcosa storto a livello di input output andiamo a catturare OS error che viene che riconosce tutte le sue sottospecie di eccezioni così come anche qua c'è un il value error che può essere di vari tipi dove era quello dell'indice c'è un index error e un key error che ad esempio l'index error è quando abbiamo un indice a una lista che non è che è al di fuori del range da 0 al numero di elementi oppure da meno 1 al meno numero di elementi genera un index error vedremo la prossima volta i dizionali che invece sono indicizzati per chiave non per indice e quindi avrà un certo tipo di error diverso e poi c'è la categoria che li mette insieme abbiamo anche visto ricordate che la funzione index ad esempio per cercare qualcosa all'interno di una lista o di una stringa nel caso in cui non trovasse nulla generava un'eccezione adesso non mi ricordo più quale se era Luca Perl forse quindi anche in questo caso la sappiamo gestire quindi questa tabellina qua ci dà un'idea di ciò che può andare storto che è sempre più vedete che la parte della leone la fanno l'operazione di input output e anche un po' le operazioni aritmetiche tutto sommato e l'accesso ai dati questa cosa qua non devo dimenticare questa pagina così lo riportiamo nelle slide per completezza la parte che ci sono due cose che vi racconto come diciamo così completamento o per completezza ma diciamo così non ci serviranno esiste oltre che try except una clausola finally che comprende un blocco di istruzioni che vengono eseguite in ogni caso cioè sia che sia andato a buon fine sia che sia fallito e tipicamente dentro il finally si mettono la chiusura dei file che magari ho aperto cioè se non sono riuscito a farla open non c'è problema ma se ho fatto l'open del file e durante l'elaborazione dei dati si rompe qualcosa allora mi resterebbe il file aperto allora il file va chiuso se si interrompe la lettura per qualche errore oppure se la lettura arriva alla fine correttamente in entrambi i casi allora questa clausola finally mi dice lo fai in entrambi i casi che è equivalente a mettere questa istruzione come ultima istruzione del blocco try e anche ricopiarla come ultima istruzione del blocco except quindi non è che sia per quello vi dico non è questa grande cosa l'altra cosa invece che vi devo accennare è il lato opposto cioè come fare a generare un'eccezione questa è un'operazione che normalmente non facciamo perché la fanno già le funzioni di libreria ma se avessimo bisogno la possiamo fare ad esempio questo è una riga di codici di un bancomat che dice che se ciò che voglio prelevare è maggiore della mia disponibilità sul conto non si può fare quindi l'operazione richiesta non è valida allora io potrei anche qua avere un valore di ritorno con un valore sentinella stampare messaggi ma la cosa più semplice è quella di dire questa funzione preleva mille euro se ho mille euro sul conto effettivamente li preleva se non li ho genera un'eccezione e ad esempio qua ho scelto di generare un'eccezione di tipo value error perché tutto sommato era un'eccezione che esiste già in quella pagina che abbiamo visto prima e tutto sommato il significato di value error mi quadra il valore che mi è passato questa funzione non è valido come se facessi la radice io qua quando abbiamo è stato di mettere value error per sapere che tipo di eccezione fare ho provato a fare la radice quadrata di un numero negativo e ho visto che eccezione mi dava allora questa qui la logica è la stessa chiama una funzione gli passa un valore che non è legittimo risultato value error quindi per creare un'eccezione semplicemente si usa l'istruzione raise con il nome dell'eccezione stessa e se vogliamo anche tra parentesi una spiegazione che poi viene stampata nel messaggio d'errore sapete che in eccezione ci stampa sempre index error due punti e poi una spiegazione l'indice è zero non è eccetera e quindi lo possiamo ricreare la stessa cosa quindi possiamo noi creare sollevare raise in italiano sollevare sembra che non senti niente segnalare che si è riscontrato un'eccezione usando raise l'istruzione raise fa interrompere ovviamente subito la funzione nella quale viene eseguita e poi andiamo a vedere qualcuno nel blocco che mi contiene nella funzione che mi ha chiamato nel programma principale ha fatto un try except value error se si questa eccezione viene teletrasportata e passata al punto in cui c'è l'except se nessuno ha fatto un try except di questo value error il programma si blocca violentemente con un messaggio d'errore semplicemente questo messaggio d'errore questa volta l'ho creato io nel mio codice perché ho riscontrato una situazione anomala quindi questo meccanismo non è limitato a le anomalie che si verificano usando le operazioni aritmetiche o le funzioni di librerie ma la posso ottenere normalmente dichiarando che questa funzione o fa un'operazione oggi è un'eccezione così il programma principale può saperlo ok questa cosa qua è quello che abbiamo fatto prima quindi oggi direi che forse due minuti di anticipo no dieci quasi di anticipo ci possiamo fermare la settimana prossima inizieremo l'ultimo capitolo in cui vedremo insiemi edizionari gli insiemi sono molto rapidi da vedere che sono due strutture dati più complesse più potenti rispetto alle liste e con questo si conclude poi la parte di programmazione grazie a tutti grazie a tutti